Eccoci qui ragazzi in un nuovo video, allora negli ultimi giorni abbiamo visto una correzione di arrenca al quanto cospicua di Bitcoin e delle altcoin, le motivazioni sono diverse ma le principali in realtà sono due innanzitutto la notizia di MTGOX e anche soprattutto la notizia, anche se in realtà più che notizia potremmo dire il fatto che il governo tedesco ha venduto miliardi di Bitcoin che possedeva a bilancio questo crollo ha portato il prezzo di Bitcoin tra i 53 e i 54 mila dollari, da lì abbiamo rimbalzato ho aperto delle posizioni, chi mi segue sul mio gruppo Telegram lo sa molto bene ho avvisato in diretta delle posizioni che ho aperto tra un attimo ci arriviamo anche perché ho intenzione di aprire delle altre posizioni quindi in questo video quello che ho intenzione di fare è dimostrare i miei prossimi trade, come ho intenzione di gestire le mie posizioni quello che mi aspetto nel breve termine da Bitcoin ma anche e soprattutto quello che mi aspetto dalle altcoin nel breve e medio termine quindi nel prossimo periodo. Quindi ragazzi come al solito siete nuovi su questo canale vi piacciono questi tipi di contenuti non dimenticatevi di mettere un bel mi piace al video e di iscrivervi al canale ora tra un attimo andremo nella parte che conta nel video quindi come ho intenzione di gestire le mie posizioni i miei prossimi trade e quello che mi aspetto dell'altcoin nel prossimo periodo ma prima molto velocemente proprio perché in questo momento è anche importante cercare di capire quali sono le varie notizie ci sono tre notizie. La prima è una notizia si potrebbe dire negativa, la seconda è una notizia che era negativa ma potrebbe diventare positiva molto presto e la terza invece è una notizia a mio personale parere molto positiva. La prima notizia è quello che dicevo su MTGOX per farla super semplice MTGOX era un exchange, era la principale piattaforma anni e anni fa nel mondo delle cripto senza entrare nel merito è fallita per un attacco hacker, per diversi attacchi hacker quindi gli utenti hanno perso miliardi e miliardi di dollari di valore di Bitcoin e dopo un processo molto lungo è uscita fuori la notizia negli ultimi giorni che MTGOX ricomincerà a rimborsare in Bitcoin miliardi di valore agli investitori che hanno perso i soldi negli anni precedenti. E quindi perché si è creato panico nei mercati? Perché c'è stato un sell off dopo questa notizia? Bene perché gli investitori, gli speculatori hanno iniziato a pensare che una volta che questi investitori riceveranno indietro i soldi o per meglio dire riceveranno indietro il loro Bitcoin incominceranno a vendere a mercato e si parla di qualcosa come 8 miliardi di valore di Bitcoin. Quindi sicuramente nel momento in cui dovessero esserci delle vendite di massa il prezzo di Bitcoin andrebbe a risentirne anche parecchio. Ovviamente questo non è certo però direi timore legittimo. Seconda notizia, il governo tedesco negli ultimi giorni ha venduto miliardi di valore i Bitcoin che possedevano a bilancio. E questa parte ovviamente come notizia negativa e si è sentita la notizia negativa nei giorni precedenti, nella correzione dei giorni precedenti dovuta anche e soprattutto da questa vendita massiccia. Però perché dico che potrebbe trasformarsi in notizia positiva molto presto? Bene perché fino a qualche giorno fa il governo tedesco possedeva qualcosa come 50 mila e oltre Bitcoin a bilancio per un valore multimiliardario. Negli ultimi giorni hanno venduto la maggior parte della loro posizione. In questo momento hanno circa 22 mila Bitcoin. Questo significa che hanno più che dimezzato la loro posizione in Bitcoin. Potrebbero esserci delle altre vendite da parte del governo tedesco? Sì, però molto probabilmente la maggior parte del movimento aggressivo al ribasso è stato fatto. Poi nel momento in cui dovessero vendere anche la restante posizione molto probabilmente vedremo delle correzioni. Ma se decideranno di vendere anche questa restante posizione anche loro finiranno i loro Bitcoin. Quindi questa notizia negativa da parte del governo tedesco che sta vendendo finirà molto presto a mio personale parere. Terza notizia in questo caso direi alquanto positiva. È uscita fuori giusto ieri la notizia che i creditori di FTX, quindi coloro che avevano un account FTX e hanno perso parecchi soldi, riceveranno indietro nel prossimo periodo dai 14 ai 16 miliardi di dollari. Non è detto che tutti riceveranno indietro i loro soldi ma si parla di un 70-80% di coloro che li hanno persi e a quanto pare i soldi verranno restituiti nel periodo che va tra ottobre e novembre che guarda caso. È anche il periodo che chi mi segue lo sa molto bene e mi aspetto che Bitcoin e altcoin potrebbero ricominciare ad essere calde e a performare molto bene. Però perché questa notizia positiva viene molto semplice da capire perché verranno restituiti miliardi di dollari di valore a speculatori nel settore del mondo delle cripto. Di conseguenza molta di questa liquidità potrebbe entrare nuovamente nei mercati e potrebbe anche entrare nelle altcoin. Quindi queste sono le tre notizie principali a tenere ben presente in questo momento. Per quanto riguarda invece i miei trade e quello che mi aspetto a Bitcoin nel breve termine. Allora nel mio precedente video ho detto che mi sarei posizionato sicuramente long su tau nel momento in cui Bitcoin si fosse corretto e fosse sceso intorno ai 200 dollari. Cosa che ho fatto anche avvisato sul mio gruppo Telegram in diretta ho aperto una posizione long su tau intorno ai 201 dollari. Incassato molto velocemente parte dei profitti e poco fa ho avvisato sempre sul mio gruppo Telegram ho incassato un'altra parte di profitti. In questo momento sono uscito fuori al 70 per cento della posizione ed in questo caso il target in cui andrò a chiudere totalmente questa posizione long sono i 280 dollari. Probabilmente andrò a chiudere qualcosa anche al di sotto quindi intorno ai 278 dollari. Trade ovviamente fatto con Bybitico trovate il link sotto in descrizione e soprattutto trovate il link delle promo attive in questo momento. Per i nuovi iscritti c'è una promo che va fino a 500 dollari di airdrop. Trovate il link con le istruzioni per accedere a questo airdrop. Invece per i nuovi ma anche gli utenti già iscritti c'è un'altra promo che è la Crypto Cup. Sostanzialmente è un gioco che va a far indovinare chi sarà il vincitore delle varie coppe. Seguendo le istruzioni anche in questo caso si possono ricevere degli airdrop. Lascio il link sotto in descrizione con il video tutorial completo che ho fatto personalmente. Ora quali sono i prossimi setup e che cosa mi aspetto a Bitcoin prossimamente? Allora come dicevo in questo momento ho ancora aperto la mia posizione in tau. Quello che ho deciso di fare in questa correzione è non posizionarmi long su Bitcoin ma entrare molto più pesantemente su tau proprio perché mi aspettavo che i 200 dollari avrebbero retto anche se Bitcoin fosse sceso ulteriormente. In questo momento quel che mi interessa per Bitcoin è vedere una chiusura al di sopra dei 58 mila dollari o per meglio dire 58 e mezzo. Il che sarebbe molto positivo anche perché in realtà non abbiamo chiuso granché bene il settimanale perché stavamo per chiuderla di sopra ai 58, 58 e mezzo ma alla fine negli ultimi minuti della settimana scorsa abbiamo chiuso direi male abbiamo chiuso sotto ai 58 mila dollari per questo motivo sono ancora un po' cauto su Bitcoin dall'altro lato però ci sono anche un paio di cose che mi piacciono in questo momento su Bitcoin innanzitutto una potenziale deviazione ogni tanto mi sentite dire su Bitcoin che potrebbe creare una deviazione che è un qualcosa di positivo e quindi quando faccio analisi tecnica su Bitcoin ragionare per deviazione ragionare per reclaim qualcosa che mi piace proprio perché non è un qualcosa che funziona con tutti gli asset che trado ma con Bitcoin per quella che è la mia esperienza personale ragionare ragionare in termini di deviazione di reclaim con Bitcoin ecco nel mio caso funziona molto bene quindi questo che cosa significa? Significa che a Bitcoin spesso anche per manipolazione di mercato quello che piace fare è andare sotto al minimo precedente ma poco al di sotto andare a prendere la liquidità sotto al minimo precedente andare a liquidare tutti coloro che erano posizionati long con degli stop loss poco al di sotto del minimo precedente per poi creare una sorta di deviazione un reclaim sopra al minimo precedente per poi riprendere la salita quindi molti asset invece quello che vedo è un retest negativo del precedente minimo per poi scendere nuovamente ripeto a Bitcoin per quella che è la mia esperienza sembra che piaccia spesso andare a deviare per poi risalire nuovamente quindi questa è innanzitutto una struttura che non mi dispiace per niente sommandoci anche il fatto che in questo momento nel giornaliero Bitcoin ha creato una bullish divergence anche questo un qualcosa di positivo quindi nonostante in questo momento ci sia abbastanza panico nonostante sia il governo tedesco che potrebbe ricominciare a vendere come se non ci fosse un domani miliardi di Bitcoin o per meglio dire quel miliardo e tre che gli è rimasto ecco in questo momento quello che mi piacerebbe vedere per delle posizioni long è vedere un reclaim al di sopra dei 58 e mezzo a quel punto molto probabilmente opterò per delle posizioni long targetizzando quello che era il range low fino a qualche giorno fa quindi il livello dei 60 61 mila dollari quello sarebbe il target principale nel momento invece in cui dovessimo rompere addirittura i 60 61 mila anche se in questo momento è un po' presto per dirlo ecco si aprono invece delle opportunità di andare nel mid range o anche addirittura ebbene sì nel range high però ripeto ancora presto per dirlo quello che ho intenzione di fare è vedere come si comporterà Bitcoin nel prossimo periodo per meglio dire nel breve termine nel caso invece di ulteriore correzioni il livello che mi interessa in particolar modo sono i 50 52 mila dollari però in termini di probabilità personalmente attribuisco delle probabilità maggiori in questo momento a Bitcoin di rivisitare quello che era il range low quindi i 60 61 mila rispetto che andare a fare un nuovo minimo intorno ai 50 52 almeno questo nel breve termine quindi riepiloco sono ancora long su tau con un target di 280 dollari circa e ho intenzione di aprire le posizioni long su Bitcoin nel momento in cui dovessimo andare a rompere a chiudere di sopra i 58 e mezzo per quanto riguarda invece la situazione delle altcoin che in questo momento è sicuramente un argomento che interessa a molti proprio perché nell'ultimo periodo abbiamo visto le altcoin correggersi o per meglio dire crollare e che le altcoin da ottobre 2023 fino a metà marzo 2024 hanno fatto un più 150 per cento questo ovviamente tenendo in considerazione il total 3 quindi il mercato delle altcoin proprio perché se dovessimo andare a prendere le altcoin singoli ci sono delle altcoin che sono sono sognato un 150 per cento come per esempio le altcoin che hanno performato bene nei cicli precedenti cardano link tutte quelle altcoin lì invece andiamo a prendere delle altcoin in settori in hype come quello per esempio delle AI dell'intelligenza artificiale altro che 150 per cento hanno tirato sul mercato facendo migliaia di punti in percentuale poi cosa è successo che nel periodo poco prima dell'alding quindi intorno a fine marzo primi di aprile le altcoin hanno iniziato a scendere c'è stata una correzione al mercato totale delle alt del 35 per cento e avevo anche parlato nei miei precedenti video di alcuni dati passati che ci mostravano sostanzialmente che anche in bull market il mercato delle alt tende a correggersi anche molto aggressivamente ho mostrato delle correzioni del 35 per cento addirittura ho mostrato anche delle correzioni del 60 oltre per cento il mercato delle alt quindi è vero che vedere le altcoin continuare a fare massimi su massimi e continuare a salire e poi dopo un due tre mesi vedere dei crolli come quelli che abbiamo visto nell'ultimo periodo è un qualcosa di cui non ci si abitua mai ma è anche vero che è un qualcosa che è sempre successo storicamente quindi questo per dire cosa che sicuramente è impossibile prevedere ogni movimento con certezza soprattutto quando si parla di speculazione se si parlasse di investimenti sarebbe un po' più facile anche lì non sarebbe mai certezza ma personalmente mi aspetto che nel prossimo periodo anche se dovessimo vedere delle altre correzioni le altcoin soprattutto le altcoin nei settori più forti e soprattutto le migliori altcoin performeranno bene e continuano a dare degli ottimi ritorni siamo arrivati al bottom delle altcoin difficile dirlo anzi impossibile dirlo quello che ho notato che negli ultimi giorni dopo questa correzione di bitcoin e questa breve risalita che vi ho visto di bitcoin e delle altcoin le altcoin hanno sovra performato anche abbondantemente bitcoin soprattutto certe altcoin DAO per esempio non lo so se anche nelle altcoin abbiamo già raggiunto il minimo abbiamo già raggiunto il bottom locale ho mostrato anche nei miei precedenti video quali erano i livelli che stavo guardando come potenziali livelli di supporto personalmente credo che quello visto pochi giorni fa potrebbe già essere un bottom locale o eventualmente nel momento in cui dovessimo continuare a scendere il bottom è abbastanza vicino il fondo è abbastanza vicino questo prima di ripartire per quella che è la mia opinione nel periodo autunnale quindi in questo momento quando si parla di potenziale bottom a mio parere potremmo già averlo formato nei precedenti giorni oppure potremmo andare leggermente al di sotto quindi intorno alla media mobile di 200 periodi nel settimanale quindi il livello che va ai 430 e 480 miliardi di capitalizzazione nel total 3 di conseguenza questo non è assolutamente un momento neanche se dovessimo vedere una continuazione della correzione per quella che la mia strategia di vendere le mie posizioni sulle altcoin proprio perché ripeto ancora una volta nel prossimo periodo mi aspetto una risalita con volume ovviamente i settori su cui sono bullici conoscete molto bene principalmente l'intelligenza artificiale e il settore dell'RWA ma staremo a vedere quello che succederà nel breve nel medio termine ovviamente come al solito farò degli aggiornamenti anche soprattutto sui miei trade sul mio gruppo telegram arrivati a questo punto ora ragazzi fatemi sapere sotto nei commenti se siete riusciti a cavalcare la posizione long su tau se avete cavalcato delle posizioni long su bitcoin o come vi siete comportati nei giorni scorsi io come al solito spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile se vi è piaciuto non dimenticate di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al canale direi che anche per oggi è tutto noi ci rivediamo molto molto presto nel prossimo video